Tra i due parchi, l'area Cani e le attività commerciali che nella maggior parte dei casi prestano attenzione alle esigenze dei più piccoli, il quartiere dei Ronchi raggiunge con facilità la sufficienza, anzi la supera. C'è l'area Cani di Via Covetta che per gli amici a quarto zampe e i loro padroni rappresenta davvero un angolo di pace e di svago. Ci sono poi altri due arei verdi che hanno fatto brecciare nel cuore dei residenti e non solo. Piccolo ma a dimensione dei giovani il parco di Via delle Rose con l'arrivo del campo da basket e della teleferica piace sempre più. Impossibile poi non menzionare il parco Bassetti che con le nuove modifiche come ammettono mamme e nonni è sempre più nel cuore di tutti. Ronchi è un rio alla portata di mamme e di bambini? A quanto pare sì. I marciapiedi in prossimità dell'asilo di via Scese, della scuola primaria e di via Padre Lega sono stati da poco sistemati. Le attività commerciali non tutte hanno un accesso facilitato ma nel caso, come abbiamo testato, sono disposte ad aiutare. Nota dolente la velocità elevata in alcuni punti, in particolare in via Scesa. Difficoltosa anche l'uscita dallo stop di via Arturo Toscanini. In qualche punto poi il marciapiede e la strada avrebbero bisogno di una sistemata come evidenza da alcuni residenti. Si sente anche la mancanza del mercato irionale e, secondo alcuni, una sperimentazione come quella in programma a Cagliello sarebbe da provare anche qui ai Ronchi.